Il dottor Giorgio Casati, direttore generale dell'ASL Roma 2, è attivo tutti i giorni su progetti di sanità digitale. Perché abbiamo intitolato il convegno Digital Health by Design, mi scuso per l'inglese, però mi sembrava che la sintesi fosse quella giusta. Perché la sanità digitale deve essere sanità digitale sin dalla progettazione. Quindi non possiamo immaginare di aggiungere, come se fosse un po' di sale, del digitale qua e là nelle organizzazioni sanitarie, ma dobbiamo progettare una sanità digitale sin da principio, partendo dalla visione. Prego dottor Giorgio Casati. Grazie Felice, anche io voglio ringraziare sia il Ministero che ci ha messo a disposizione questa bellissima aula, sia soprattutto te, perché in un tempo irragionevole, in un tempo ragionevolmente breve, sei riuscito ad organizzare una cosa così straordinaria. E vorrei ringraziare ovviamente tutti i relatori di oggi e tutte le persone che interverranno nella discussione, perché penso che oggi deve essere veramente una giornata dove ci si confronta davvero su una serie di temi, un'occasione unica. Cioè non è semplice mettere insieme nella stessa giornata persone che attraversano tutte le istituzioni che sono coinvolte in questo processo di digitalizzazione ai massimi livelli. E quindi un'occasione che davvero non possiamo perdere come momento di riflessione. Così come è interessante il fatto di aver messo proprio nel momento di apertura due punti di vista così diversi, quello altissimo dell'Europa che vede il sistema diciamo dalla cima dell'Everest, mi passi questo termine, e il direttore generale di un'azienda sanitaria che chiaramente si trova di fronte alla situazione quotidiana di dover gestire dei servizi che devono trasformarsi. La digitalizzazione purtroppo finora è vista quasi come un processo di sostituzione di un'attività fatta con metodologie tradizionali, quelle in presenza, con prestazioni che vengono invece erogate con metodologie nuove, quindi attraverso la digitalizzazione. Addirittura vedo che molto spesso i sistemi a livello regionale, a livello nazionale, tendono a misurare il tasso di digitalizzazione delle aziende in virtù di quante prestazioni sono state erogate con queste metodologie nuove, quando invece forse il tema è quello di cambiare il modo con cui noi stiamo facendo sanità. E quindi il problema non è tanto capire quante prestazioni in televisita sono state effettuate, sul totale delle prestazioni erogate, ma diventa più importante capire quante persone sono state gestite digitalmente, sono state prese in carico e che tipo di risultati siamo in grado di assicurare a queste persone. in un contesto che è ancora difficile da gestire, perché se da un lato tante energie sono state poste per delineare e definire le caratteristiche di tutte le innovazioni che vengono introdotte, non solo sul piano della digitalizzazione, ma anche sul piano organizzativo. pensate al DM77, quante sono le innovazioni che vengono introdotte, ma però poca energia ancora è stata dedicata, ma immagino che questo sia uno dei temi che dovremmo affrontare, magari anche oggi, se fosse possibile, per capire come cambiano i servizi, come cambia la vita del signor Mario o della signora Maria in una sanità digitale e non più analogica, che significa cambiare anche proprio i processi di lavoro, il modo con cui i professionisti si relazionano fra loro e il cittadino si relaziona con il sistema sanitario. Una sfida reso ulteriormente complessa, io qui ho conosciuto il dottor Scorza, è una persona squisita, tutti vedono il tema della privacy come una minaccia, io ho imparato che non è così, anche perché i risvolti e i rischi che ci sono quando non si presiglia un tema così importante come la privacy sono assolutamente importanti e vanno assolutamente evitati, ma sta di fatto che i nostri operatori tutte le volte che usano informazioni, dati di tipo digitale, quindi che non sono stati generati dalla loro attività, hanno il dubbio, in quel momento sviluppano il dubbio se stanno o meno vedendo il diritto alla privacy delle persone e purtroppo quando si lavora con timore, con paura, il rischio è quello di non fare, ma non fare in sanità non è possibile perché noi dobbiamo curare le persone, dobbiamo garantire dei servizi e quindi dobbiamo trovare il modo sereno di lavorare, di poter lavorare assieme e sfruttare, mettere a terra davvero tutte le potenzialità che le nuove opportunità che ci vengono offerte sono in grado di darci. La sfida è importante, oggi la giornata per me è decisiva, pensate un po' come un cittadino vede oggi il nostro sistema sanitario, lo vede come un insieme di pezzi, di un puzzle molto articolato, io ho preparato le immagini. Sì, e chiede alla regia di mandare la slide. No, no, mandiamola, mandiamola. Quindi c'è l'ospedale, c'è il territorio, ognuno di questi pezzi sono assolutamente pezzi anche piccoli, tra l'altro è una semplificazione della realtà. Su questa realtà già complessa si stanno innestando delle innovazioni, quindi stanno arrivando le case della comunità che andranno a riformare il tema delle case della salute, c'è gli infermieri di famiglia, ci sono gli ospedali di comunità, c'è tutto il tema della telemedicina in tutte le sue sfaccettature. Ora, il LACOT e chi più ne ha più ne metta, il rischio è che andando a definire nel modo più articolato e analitico ognuno di questi oggetti che viene introdotto nel sistema, si perde di vista il problema generale, cioè il fatto che il cittadino attraversa questo sistema ed è un sistema che è fatto ad isole in questo momento, che non sono in grado di comunicare fra di loro. Noi dobbiamo fare in modo che queste isole siano connesse, possono essere in grado di gestire delle informazioni, non solo attraverso il fascicolo sanitario elettronico, perché il fascicolo sanitario elettronico è uno strumento freddo che io consulto, ma avrò bisogno anche di strumenti che mi aiutano ad essere proattivo o addirittura predittivo per poter catturare le persone e riportarle all'interno di un percorso di cura che magari è stato abbandonato, ovviamente nel rispetto della privacy ci mancherebbe altro, ed è un sistema che può funzionare solo se i dati viaggiano, se i dati viaggiano e se i dati possono essere utilizzati. Tra l'altro con questo elemento di complessità, cioè che il numero di dati che noi saremo tenuti a dover gestire in un qualche modo rispetto alle persone che hanno bisogno di salute, aumentano a dismisura con la digitalizzazione e aumentando a dismisura abbiamo bisogno di strumenti che ci aiutano a trasformare questa mole di dati enorme in supporti alla decisione immediata, perché non è che possiamo di fronte a un paziente e ai suoi problemi prenderci una settimana per elaborare tutti i dati e quindi abbiamo bisogno di strumenti dell'intelligenza artificiale che ci aiutano a tradurre, diciamo, in pochissime tempo in informazioni e informazioni che sono utili per il nostro processo decisionale tutti i dati che vengono raccolti. Io penso che questa sia la grande sfida che abbiamo davanti, tanto lavoro è stato fatto, alcuni pezzi devono essere ancora affrontati o possono essere anche in una fase di elaborazione avanzata, ma allora abbiamo bisogno di tanta comunicazione e di tanta formazione. Lavoriamoci perché uno dei dati che a me preoccupa maggiormente è che una gran parte degli operatori sanitari, degli operatori sanitari non dei cittadini, una gran parte degli operatori sanitari non ha ben chiaro qual è la finalità di tutto questo processo di cambiamento e questo è un problema serio, nel senso che se non abbiamo ben chiaro a che cosa porta questo processo di cambiamento, quindi qual è la visione, qual è la finalità, il rischio è che si faranno le cose che abbiamo fatto fino a ieri con strumenti nuovi anziché fare cose nuove finalmente con gli strumenti nuovi. Grazie, grazie, mi ha colpito la frase non fare in sanità non è possibile perché abbiamo a che fare con la vita delle persone e quindi sicuramente in sanità il fare è prioritario, però ecco è anche importante condividere poi le strategie con tutte le persone che sono nelle strutture sanitarie in modo che anche loro abbiano ben chiaro il disegno verso cui stiamo andando, quindi fare sempre però anche un po' di momenti di comunicazione, formazione e riflessione sul cambiamento che stiamo proponendo alle persone.